Stiamo cercando in maniera veramente ossessiva un canale per riuscire a recuperare vaccini. Il Veneto si sta muovendo per cercare di acquistare vaccini autonomamente lavorando ad un progetto covid free per comparti del sistema imprenditoriale della regione, dal turismo al commerciale delle aziende. L'annuncio è del presidente Zaia comunicando la ricerca di un canale alternativo per riuscire a recuperare vaccini. Ci stiamo muovendo a 360 gradi anche per capire se sul mercato mai accadesse che trovassimo anche la possibilità di approvvigionamenti. Non penso sia un reato andare a comprarsi i vaccini. Penso però che bisogna riuscire a trovarli. Vaccini che devono essere trovati nella legalità e nel rispetto delle regole. Io penso che in questa fase il paese debba garantire a chi riesce a trovare vaccini di poterli comprare. Questa è la vera sfida di questo paese e di non trovarsi l'interlocutore che è la Corte dei Conti, la Procura o quant'altro. Io non sono convinto che sul mercato mondiale non ci siano vaccini a disposizione per il retail o per dei canali non istituzionali e le nostre imprese hanno bisogno di quei vaccini. Il fattore tempo è fondamentale in questa fase per la salute delle persone ma anche per l'economia. Sappiamo tutti che da qua i prossimi sei mesi ci saranno vaccini per tutti. Il problema è averli prima. Altro grande tema fondamentale per la ripartenza è quello delle risorse. L'unica ancora di servezza si chiama recovery fund. Sono 222 miliardi di euro che possono essere una grande opportunità come un mega spreco. Noi dobbiamo aiutare le imprese con quei soldi e creare occupazione. Tutto il resto è divagazione sul tema. Intanto migliorano in Veneto i dati sull'andamento dell'epidemia sia sul fronte dei contagi che su quello dei ricoveri calati del 53 per cento nelle rianimazioni e quasi dimezzati in area non critica. Dati che spingono ad una riorganizzazione delle attività di ricovero che erano state sospese. Vediamo di fare una verifica se dalla settimana prossima possiamo riaprire per alcune attività che erano state rinviate o sospese sia in ambito chirurgico che in ambito medico. Parlo di attività di ricovero.